buongiorno ragazze ciao a tutte e ciao a tutti nuovo video all the spar saponi e profumi dunque dividerò in due parti perché sono qua non riesco a registrare tutto perché già il telefono quello che è la luce quella che però si vede decente per adesso quindi andiamo subito al solo e vi dico già il totale complessivo che ho speso totale complessivo e 14 euro e 8 centesimi in totale ok poi vabbè qua c'è un sacco di prodotti che adesso vi faccio vedere allora ho preso prima di tutto olio secchi questo qua la carne è di là non metterlo dietro metterlo olio secchi questo qua vedete e ce n'è un litro contenuto sì vabbè la scadenza tanto lo sappiamo qua l'olio va via come il pane quindi ok poi ho preso due bottiglie di latte arborea molto buono vedete aspettate che ve li metto bene perché sennò non riesco ecco qua due bottiglie di latte arborea poi poi uno di cavolo qua se riesco a prenderlo oppla questo qua si vede sì poi 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 due banane due poi no no non finisce dico tutto nell'info box scrivo a ragazze tranquille vi scrivo tutto nell'info box man mano che carico questo video se no non finisce più qui poi le arance le arance quelle qui ho preso un cespo di lattuga eccola qua come potete ben vedere e poi del sale una busta di sale un sacco di sale anzi ho preso vedete un sacchettino poi suddividiamo ora chiudo il video e ci vediamo per un altro spezzetto di sapone profumi a dopo aspettate un secondo che prendo la busta e torno eccomi ragazze seconda parte del video all sapone profumi perché prima sono stata da despar e poi sono stata a sapone profumi quindi vediamo un po totale complessivo complessivo di sapone profumi 7 58 uno scontrino il primo il secondo e 5 26 perché ho preso due prodotti poi ne ho preso altri 4 per lavarmi per il genere la persona sarebbe ok allora cominciamo con i prodotti ho preso due burro cacao anzi un lucido l'opera è un buro cacao e sono a posto per questa settimana poi me l'ho omaggiato e ve lo faccio vedere non ho fatto un omaggio che non so neanche che cosa sia comunque non è niente male questo omaggio deve essere bello questo qua ecco qui poi ho preso come vi dicevo i miei amati questo mio alleato della doccia perché è con e con e con o no scusa e con il come dire è buono mi piace e basta lo adoro poi ne ho preso ben tre di questi e questi sono un placone da 500 mele di prodotto poi dunque questo cos'è a nocciotella burro di carite olio di mandorla buono questo lo amo da sempre da quando l'ho visto non so perché l'abbiamo visto dal canale di alessandra si ovvero bufettina chic ciao alessi video un bacio ciao e basta ragazzi questo era tutto allora ti faccio vedere questo è il mio burro cacao della labello e questo è il labello crayon ovvero effetto glossis di valentina ferragni l'ho voluto provare perché mi piace tra l'altro mi ricordo un colore che usavo per andare a scuola ovvero alle superiori quindi top mi piace e nulla questo lo metto penso che sia no transfer non ne sono sicura caso non vi faccio sapere quando lo utilizzo e niente a posto questo è 12 mesi di pao via per 5,5 mille di prodotto e 51 no 5,1 grammo va bene ragazze questo era tutto non sto qua a dirvi troppe cose se vi è piaciuto il video perché no vi dico di mettere un bel like di supporto per aiutarmi a crescere e basta ciao buona vita a tutte un bacio ciao ciao ciao